Ciao a tutti e benvenuti a questo video dedicato alla ricarica delle auto elettriche, una delle tematiche più attuali e importanti nel settore automobilistico. Oggi esploreremo i diversi tipi di ricarica, le loro caratteristiche e i vantaggi di passare all'energia elettrica per i nostri veicoli. Iniziamo parlando della ricarica domestica, che rappresenta una soluzione comoda ed economica per molti proprietari di auto elettriche. Basta avere una presa elettrica standard e un cavo di ricarica per collegare il veicolo alla rete elettrica di casa. La ricarica domestica è lenta, ma può essere sufficiente per soddisfare le esigenze di carica giornaliera per la maggior parte delle persone. Passiamo ora alla ricarica pubblica, che comprende le stazioni di ricarica presenti sulle strade, nei parcheggi e in vari luoghi pubblici. Queste stazioni offrono diverse opzioni di ricarica, come la ricarica veloce e la ricarica ultraveloce. La ricarica veloce può fornire una ricarica significativa in un breve lasso di tempo. Mentre la ricarica ultraveloce può raggiungere tempi di ricarica paragonabili a quelli necessari per fare il pieno di carburante. Un altro aspetto fondamentale è la creazione di una solida infrastruttura di ricarica per supportare la crescente adozione di auto elettriche. Le aziende automobilistiche e le compagnie energetiche stanno lavorando insieme per sviluppare una rete di stazioni di ricarica che copra ampie aree geografiche e che offra una ricarica veloce e affidabile. La transizione verso l'auto elettrica comporta numerosi vantaggi sia per gli individui che per l'ambiente. Innanzitutto, la ricarica delle auto elettriche è meno costosa rispetto al rifornimento di carburante tradizionale, consentendo ai proprietari di risparmiare denaro a lungo termine. Inoltre, le auto elettriche emettono meno gas a effetto serra e inquinanti atmosferici, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a combattere il cambiamento climatico. È importante anche affrontare le sfide attuali e future della ricarica delle auto elettriche. Una delle principali preoccupazioni riguarda la capacità della rete elettrica di gestire la domanda di energia da un numero crescente di veicoli elettrici. Tuttavia, gli sviluppi tecnologici e l'implementazione di soluzioni intelligenti stanno contribuendo a mitigare queste sfide, come la gestione della carica in base alla disponibilità di energia rinnovabile. In conclusione, la ricarica delle auto elettriche è un aspetto cruciale per l'adozione diffusa di veicoli elettrici. Con una combinazione di ricarica domestica e pubblica, insieme all'espansione delle infrastrutture di ricarica, possiamo rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e sostenibile. Ricordate, la scelta dell'auto elettrica non è solo una scelta intelligente per il vostro portafoglio, ma anche per l'ambiente in cui viviamo. Grazie per aver seguito questo video e continuate a guidare verso un futuro più pulito ed ecologico.